Il modello di lavastoviglie Unica 40 ha le dimensioni perfette per essere installato sotto il bancone. Grazie poi alla presenza del brake tank, il risciacquo delle stoviglie avviene sempre a temperatura e pressione dell'acqua costanti, indipendentemente dal livello di pressione della rete idrica, mentre la pompa di aumento di pressione assicura un'altissima qualità del risciacquo, creando potenti zetti d'acqua che garantiscono la rimozione dalle stoviglie anche dei residui più piccoli. Ma il vero valore aggiunto è stata l'idea di abbinare l'Unica 40 al sistema di osmosi ad altissime prestazioni Osmo 180. Il problema nasce dal fatto che nella nostra zona è presente acqua con un'alta concentrazione di minerali. In queste condizioni la perfetta pulizia dei calici sarebbe quasi impossibile, ma con un osmatizzatore i vantaggi sono stati fin da subito evidenti. Quello che posso consigliare ai miei colleghi ristoratori, se desiderano dei calici perfetti, brillanti e senza aloni, che esaltino quindi il sapore del vino, è l'installazione di una lavastoviglie unica collegata al sistema di osmosi. Da una parte non avranno più la mentale dei clienti sulla pulizia dei calici, dall'altra non dovranno più investire del tempo nel pulirle a mano ed il vantaggio di un'igiene totale delle stoviglie. Grazie a tutti.